Ciao a tutti, con lui è un periodo di pausa. Meglio lasciarlo o ritentare? Chi fosse interessata ad avere una risposta a questa domanda, segue il video. Nel frattempo, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al nuovo canale, felicità e benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, mescoliamo le carte, tagliamo, giriamo e tra le tante carte a disposizione ne vado a scegliere 4 casuali. Carta 1, carta 2, carta 3 e carta 4. Allora, pensa a questo lui, del quale vuoi sapere se è meglio lasciare o andare avanti, o cercare di andare avanti. Prenditi tutto il tempo necessario, dopodiché scegli la carta 1, la carta 2, la carta 3 o la carta 4. Perché hai scelto la carta 1? Ma diciamo che vale la pena ritentare, e ritentando nel modo giusto ci sono anche le possibilità di trovare una nuova, un nuovo rinizio, diciamo così. Casi ha scelto la carta 2. Anche qua ci sarà un'unione, quindi tentate. Casi ha scelto la carta 3. E tutte carte che vanno sul ritentare, questa poi è il top, ci sarà un'unione molto solida. Chi ha scelto la carta 4? E qua invece, che fa anche una persona manipolativa, che cercherà di, insomma, più che altro contatti fisici. Quindi vale la pena di chiudere. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.